Ecco, vedo un bisetto che si andava a Franzico e lo seguia a Comandato. Se la mamma si andava a battere, si parla di una volta e lo parla di 6 e 2, non seguia a Comandato. Però aveva un tempo di andare a travagliare, che doveva andare. E mi è andata a fare, insomma, non vale venga a muro, quando si andava a muro. E quando si andava a muro, non si andava a lavorare in buona sammonia, non si andava a fare. Ah, la sua lumina è giusta. Come a Franzico e il sole, bello bello che non volevo fare, mi ha fatto il mattino. Andate bella tia, ti ha fatto il mattino. Come a Franzico e il sole, bello bello che non volevo fare, mi ha fatto la gallarella. Franzico e il sole, bello bello che non volevo fare, mi ha fatto la pedra, una cosa di andare sul muro, sopra il muro. Dai, ponia su contone, su brocchetto. Dai, che l'ha comandato. Mi dà me, non ha che come. Franzico e il sole, bello bello che non volevo fare, mi ha fatto andare a Domusù, è andato a a Domusù. Però non è abbigonza di entrare in Domusù, perché il suo babbo non ha fatto una cosa, la mamma non ha fatto una cosa, quindi noi ci ha comandato di presentare. E si è cuato. Acano intende, è cucù. E il suo babbo a la mamma, marì, cu se Franzico. No, non è qui, è treballente, è andato di buona sammonia. E si è andato di Franzico. Io ho setto qua su tre bolle che ha dedito a te con i occhi, il suo babbo è sace rato, è andato a me. Mentre in me, gli è andato con un occhio, a me, la tomo è andato. E lo puoi sentire in sette ora. Io mi sento sempre a Domusù, Franzico e il sole, bello bello che non volevo fare, mi ha fatto. Franzico e il sole, bello bello che non volevo, mi ha fatto. E tanto mi ha fatto solle. E mi ha detto, come Franzico e il sole, bello bello che sono fiori si cadono andando su e vengono mille soldi avvanti un altro registro comunque questa non è tantissima, questa è vero vero? non hai contato, non hai contato, non hai contato? non hai contato, perché il marito mio è che mi dico tu non ti mandarono a tribagliare non hai contato quindi è proprio... è verità però non l'ho inventata io e tutti io sono intendo dai marito mio che vivono, che qualcuno che non è venuto nello per le loro bianche e quello che avevano inizio e quindi abbiamo qualcuno che non ha mi affronti quel sole, quello bello che io lo conosco. Che ero ancora giovagliata. Eh sì. Vabbè, è bello che questo racconto, che praticamente è come l'insegnamento di questa Bibbia, di questa religione. Quindi vorranno, per esempio, che fanno la famiglia di domani domani, che fanno Gesù Cristo, che fanno questa cosa. Quindi è una marea che vuoi imparare. Sì, Gesù Cristo è andato a terra, un giorno è andato con il Santo Pedro, è andato finendo, arriva a una domanda, ma è il 30 mesi. Arriva a una domanda, è andato a Gesù Cristo, quella giovane. Ma io non ho detto, però, che vi Gesù Cristo, no. Che entra da dentro, è andato a una bella danza, è andato a Brijca, con uno broccale, che si è andato a terra. La dazza ha vinto bella, lucida, con la cristallina di questa dazza. L'ha ringraziata, e si avviene. non è andato a terra, non è andato a terra. Allora, è andato a terra, è andato a terra, arriva a un aterodomo, e li viva una dazza abba. Qui invece l'avvocato è stata zaga, brutta, si dice che il figlio lo fa male, che non lo fa pure. E i sabbi non lo diceva cristallina, sabbi, brutta, perché brutta è stata zaga, sabbi, come te potete essere. E intanto si ha buffato, l'ha ringraziato e si è andato. Immagina, chi ha i gussi e te ha i gussi anche il marito buono, e no. Ti va reggiurlo anche a te. Cutta che è trattata bene, ha dato una tazza lucida, pulita, e li dà il marito malo. Cutta natti. A sanzozzonosa, il marito buono. Cutta li dà il marito malo, che ha questa pulizia a sua, questa paciencia a sua, questa gentilezza a sua, dentro di lui da pare. E ha il gatto, ha il gatto, il marito buono, che ha i gatti, che ha il gatto pulito, che non le ha niente, e quindi non piazza. Questo è Gesù Cristo. Sì. E il Gail, invece di non andare, perché lo conto è pochino e tutto. Dice che ha ragionato con me che Gesù Cristo, ma con chi me l'ha nato l'ha ragionato, penso proprio. Come è bebecita questa cosa? A me mi denunzia, no? No, che non la potete denunziare, potete non chiedere. Quindi poteva andare male pure a Gesù Cristo, però io non si intende di tutto. Poche figliate non si intende di tutto. Così non si intende di tutto. Bene, bene, bene. Vengai. A te non dico che ne dico. Puro! Vedo che siamo su, in tre e fa. Dice che cosa tu vuoi lamentare il suo conto interno? Non lo so. E' beca, non è disperato questo lutto che è morto. E' beca che gli occhi si batta questo. Te l'ha fatto con la signora, te l'ha fatto già la mamma. E' beca, è vero. Lo facciamo quasi sempre. E' vero nel senso che non ha ramoso. Non è vero che sia successo, non l'ha pochino. Sempre conto inteso lo teniamo a paragone. Quando diciamo che una persona disperata che è morta sul viso, che è morta sul viso, che è morta sul viso, non è becci nervioso, non è mezzo a preferire la morte. Una che andrò dalle vecchie visite, le narra la vera aula di ancoraggimento, narra di Norabona, e a Gesù Grillo, e a nostra signora, che è bella una mossa. Se uno muore di malattie, che è giovane, specialmente i tecchieri, su rancore, su dolore, penso che sia metà mano. e quando gli dà il paragone, non si è morta la nostra signora, e ti occhia tu, e anche se sei bella una mossa, senza avere una guppa. A Gesù Grillo non è morto, e Gesù Grillo è morto, è morto male, e non si è morta la nostra signora, non si occhi a nessuno. e poi ti ha fatto la nostra signora. La nostra signora, che è piangendo, che ha buttato la morte sul viso, come ogni mamma ha provato il dolore. E tanto, la mamma, che Gesù Grillo non queria mandigare, non, 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 però la mamma l'ha portato sul mando, e l'ha giusto sul venuglio, e sul ceddo. O mandigata, è vero, però non è vero, non l'ha giusto, non si è vero, non si è orto, non si è vero, non si è vero, non si è vero, è vero, è vero. Francesca è vero, si è vero, è vero, la mia è vero. Massa, Si mi occupa di tutti i occhi, tutto il mondo. Infatti da Sant'Anna bisogna sapere che i vecchi vengono a Sant'Anna ma non li vengono a Vesprosa. Vigilia sono a Vesprosa. Infatti la Sant'Anna vengono proprio a Vesprosa, ma lo vengono a Vesprosa. Queste di adesso non vengono a Vesprosa, ma può aumentare il fatto che la Vesprosa diventa a Vesprosa. La Vesprosa diventa a Vesprosa. Gli italiani sono i Vesprosa. Si si si. E quindi chi vengono a Sant'Anna? Sant'Anna non ha un pepero. E' proprio una tradizione. C'è il pepero in Chiesa, non le vengono. Le vengono a Vesprosa. Sant'Antonio non ha fatto su Vesprosa, con la Missa. Se non vengono a Vesprosa. Se non vengono a Vesprosa e su Vesprosa. Ci sono delle vengono a Vesprosa. Le vengono a Vesprosa per questo motivo. E poi se una cosa ti ha mandato, ovviamente, noi che nostra signora avrà mai a sua mamma. Cioè, non lo vengono a Vesprosa. Ma ecco. Cioè, parliamo, eh? Non vengono a Vesprosa. Non vengono a Vesprosa. Buongiorno. Buongiorno. Eh. 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 Che chiudammo, comunque. Lo è che non possiamo accontentare uno? No. Di più. Eh. Che cosa mi ci dà a me? Tu arrivi alla 10? Sì.